Marvel Cinematic Universe fase 3, giorno 18, il dominio del re Pantera, Black Panther 2018 Oggi siamo qui a parlare della diciottesima pellicola e rilevante tassello pre-Infinity War. Si tratta di un film sovversivo che scuote dalle fondamenta le vecchie concezioni inerenti il Marvel Universe, meravigliando anche per il grande stile e al contempo per le tontuose percezioni generate attraverso una cosa che Hollywood sporadicamente riesce ormai a ricreare ovvero l'epicità dell'uomo barra eroe elevandolo al mito. Quello interpretato da Chadwick Boseman già apparso in Civil War racconta il ritorno del personaggio nel paese natale ovvero Wakanda immaginare un regno dell'Africa orientale, descritta come la più povera nazione africana ma con in realtà molti segreti sotto la superficie della povertà. Ospitando l'unico, c'è anche una variante antartica per la verità, giacimento di vibranio del mondo, le torri scintillanti, le strade affollate e le vaste distese erbose di Wakanda avvicinano il tutto quasi a Star Wars o Blade Runner e all'attuale panorama sci-fi hollywoodiano, ma parallelamente erigendo una sua originale versione di Insieme. Una salana da sogno brilla sotto la luce delle stelle arcobaleno, le letture olografiche sono sospese nell'aria come pitture a sabbia tridimensionali, i piloti guidano le loro Nai Hoover in una pose di meditazione chemetica affascinante e surreale, con costumi e armi dallo stile tribale barra futuristico, il tutto impreziosito da stralci laser neon di colore viola. In definitiva, la casa delle idee continua a sorprendere sfornando una produzione intelligente, sontuosa e divertente, pur manifestando i particolari toni di un cinecomics sovversivo e stravagante, in cui gli stereotipi africani vengono a capovolti e la storia viene riscritta. Wakanda l'hanno cercata per secoli. La città dorata è una meraviglia di tecnologia. Siamo a casa. Puoi decidere che tipo di re vorrai essere. Figlio mio, è il tuo momento. Ho tante cose per te. È più leggera e antiproiettile. Non fermarti. Io non mi fermo mai. È tutta la vita che aspetto. Questa volta arriveremo in cima. Se il mondo scoprirà cosa possediamo, potremmo perdere il nostro modo di vivere. Che cosa vuoi? Voglio il trono. Quello che succederà ora determinerà quello che succederà al resto del mondo. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. Wakanda per sempre! The revolution will not be televised. Divertiamoci! The revolution will be live!